Allora, mi piace... Mi piace andare in discoteca a ballare No, mi piace ballare Mi piace... Non lo so! Ciao! Ciao! Come ti chiami? Carol Ti piace il tuo nome? Sì! Sei italiana? Sì! Quanti anni hai? 19 Dimmi i tragettivi che ti rappresentano Generosa, solare, egocentrica Parte del corpo che preferisci? Il naso E quella che odi? La pancia Colore preferito? Verde smeraldo Cosa hai studiato? Moda Quali sono le cose che ti piace fare? Shopping online Fare gli aperitivi con le amiche E leggere Qual è l'ultimo libro che hai letto? Di Marie Kondo L'arte del riordino? Sì, proprio lui Sai come si baciano gli eschimetri? Col naso Parli da sola? Molto Guardi serie? Sì Che serie? L'ultima che ho vista è stata Making the Cut su Amazon Prime Video Se potessi avere un superpotere Quale sarebbe? Leggere nella mente Hai migliori amici? Sì, si chiama Luca Sei soggetta ad amnesie momentane? Direi di sì La tua frase guida? Scegli ciò che ami Ma amma ciò che hai scelto La più grande pazzia che hai mai fatto? Sorvoliamo Secondo te Cosa non dovrebbe mai fare una donna? Essere rossa E un uomo? Sputare per terra Progetti futuri? Andare a vivere fuori dall'Italia Città dove vorresti vivere? Ancora un segreto Quali social ami più di tutti? Instagram TikTok E Pinterest Hai dei vizi? Sì Ne ho due strani Che pensavo Nessuno facesse In realtà lo fanno in molti Camminare solo sui tombini O evitare le fessure delle piazzarelle Qual è la tua stagione e mese preferito? La mia stagione preferita è la primavera E il mio mese preferito è buccio Perché? Perché c'è la pioggia Preferisci quindi la pioggia al sole? Diventerai una vecchia di quelle che attaccano briga in coda e in cassa per la spesa? Ma che domanda è? No E amo Chi ha letto il cibo preferito? Pizza E Ghiacciola al limone Ti piacciono le verdure? Sì Ti rendi conto che le domande sono quasi finite? Era ora E allora dicci qualcosa Spero vi sia piaciuto E troverete tutti i link dei social qui sotto E un bacione Ciao caro Ciao